No, perché io comunque penso che l'economia possa crescere e possa comunque aiutare l'uomo a credere nei suoi obiettivi e a far crescere, a dare più... Mi sono un attimo persa, beh, comunque, se mi date un piccolissimo aiuto, piccolissimissimo prestito... No? Così almeno ci possiamo un attimo aiutare. Non credo proprio. Perché? Perché io credo solo a questo. Bisogna compilare i moduli da B a G, mettere una firma qui, 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 qui e insomma. Ok. Carta di identità, codice fiscale, le ultime si è bussata che modello. Ok, e poi mi date il prestito? No, bisogna portare a garanzia un immobile di sua proprietà, dopodiché verranno fatte delle verifiche su lei eventualmente tutto a posto. Senta, se io avessi un immobile di proprietà non mi troverai in questa situazione di merda e se non mi trovassi in questa situazione di merda magari non avrebbero preso tutti i mobili che ho in casa, non pensi? No. Non penso. Penso che se lei già ha un contenzioso con il fisco non lei conviene ripeterla con noi. Vabbè ma può chiudere un occhio. L'allocizia. Eh? L'allocizia in che senso? Senta, lei ha di fronte una persona che si trova in una situazione di merda che vi sta chiedendo solo cinque fottuti mila euro e tu che fai mi guardi in faccia con quella faccia di cazzo e con quel sorrisino? Come a prendermi per il culo? La banca non dà soldi ecco a chi non li ha e per sua informazione questa non è una faccia di cazzo ma è la reazione che quelli come voi poveracci fanno provare a noi la banca che abbiamo il potere. Buona giornata. Ma non siete persone male. Ma non siete animali. Siete degli stronzi non neanche. No scusa poi passare un attimo la voce. Si raccomando fuori su. Ma basta fare. Ma fuori di subito vedo. Ma non è come pensi. Non è come pensi. Non è come pensi. Questa non è non è mia. Non è una rapina. Non è una rapina. Non è una rapina. Non solo mica. Ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo non è una rapina. Non è una rapina. State calmi. Si si si. Qui ci sono i soldi. Ma che cazzo mi servono i soldi. Ma che volete oggi tutti da me. Non è una rapina. State calmi. Ascoltate. Non è una rapina. Ecco questi. Poi veramente. Non abbiamo più niente. No. Allora per favore. State calmi. State calmi. State. Per favore calmi. Me ne vado. Me ne vado. Aspetta i soldi. I soldi. Fermo. Allora. Manila. Non è come pensi. Conta fino a 3. Uffrata. Per favore. Porca puttana.